Il 28 dicembre è una data importante per gli ortonesi, è la data della liberazione della città avvenuta nel 1943. E proprio a questa importante data, da ben 26 anni, è dedicato un premio che viene conferito a cittadini che si distinguono nel campo professionale, sociale e culturale. Dopo un anno di sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale ha organizzato un'edizione speciale, come ci dice il sindaco Leo Castiglione. Un'edizione straordinaria del premio 28 dicembre che si era fermato l'anno scorso, sempre per la pandemia, ma che quest'anno abbiamo voluto ripresentare proprio per trasmettere un messaggio di speranza e di fiducia a tutti i cittadini e a tutta la comunità in genere. L'abbiamo voluto fare dando un giusto riconoscimento a chi ha lavorato in questi due anni, dall'inverno 2020 ad oggi, continua a lavorare, sta in prima linea. E quindi un premio che è stato assegnato proprio in via straordinaria a tutto il mondo sanitario, a tutti gli operatori sanitari, che però viene dato simbolicamente ad un reparto dell'ospedale di Ortona e al professor Parruti che ha rappresentato la regione, diciamo, la voce della regione su tutto quello che è accaduto in questi due anni, dal primo giorno ad oggi. L'alfiere di Walter Pollegioni al dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive dell'ospedale di Pescara, è un riconoscimento ad un operatore del pronto soccorso dell'ospedale di Ortona, in rappresentanza di tutti gli operatori. Con le domande del direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, che ha presentato la manifestazione, sono stati ricordati momenti difficili vissuti per la pandemia. Riconoscimenti anche per le associazioni di volontariato, che stanno collaborando con il comune e la ASL. Per l'azienda Micoperi, che ha dato grande disponibilità allestendo un centro vaccinale dove operano i dottori Adam Ammarella e Mauro De Jure. Per il dottor Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL, Lanciano Vastocchietti. La manifestazione si è aperta con gli attestati di merito agli studenti che sia lo scorso anno che questo hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti. Un'edizione del premio che vuole dare speranza e fiducia, di cui tutti abbiamo bisogno, oggi come allora, e che è stata anticipata da una cerimonia in Piazza degli Eroi Canadesi. Questa mattina, come sempre, abbiamo deposto una corona in ricordo dei caduti del 28 dicembre, delle 1314 vittime civili. E al Sagrario, proprio delle vittime civili, abbiamo allargato il ricordo anche a quelle vittime che sono state appunto colpite dalla pandemia. Ad Ortona, ad oggi, abbiamo 57 vittime, tra cui c'è proprio un operatore sanitario, Tommaso Di Fabrizio, che ricordo, che tutta la comunità ricorda con affetto, un infermiere che ha sempre svolto il suo lavoro con la massima dedizione. Grazie. Grazie. Grazie.